Un saluto a tutti cari amici telespettatori, l'autunno è alle porte, l'autunno è già arrivato, è arrivato anche a Sanstino di Vivenza. Fra l'altro domenica 15 ottobre, dall'alba tramonto, a Sanstino di Vivenza ci sarà la consueta fiera dei colori e dei sapori autunnali che vedrà una manifestazione che parte dall'alba e finisce a tramonto, tra cui troverete dei stand commerciali, stand enogastronomici, degustazioni fra vino e piatti tipici autunnali e piante. Durante la giornata ci saranno intrattenimenti per bambini, è un momento di condivisione, un momento di allegria per valorizzare quello che è l'autunno, fra colori e sapori. Successivamente avremo anche un altro importante evento a Sanstino di Vivenza presso il Cinemateatro Romano Pascutto in data 28 ottobre. Si tratterà di una serata dedicata a un tributo al scomparso ormai di recente, uno fra i registi più importanti del genere horror, Romero, quindi in occasione della sua scomparsa verrà dedicata una serata, il 28 ottobre, alle ore 20.45, una maratona di film dedicata al suo genere horror. Quindi noi vi aspettiamo, inizialmente partiamo con la fiera d'autunno il 15 ottobre e poi successivamente il 28 ottobre a Sanstino di Vivenza. Di nuovo un caro saluto a tutti voi.